Sono stata la dottoressa di Sorrucia negli ultimi 15 anni della sua vita. Sono stata al suo fianco in ogni momento della sua vita, incluso il giorno della sua morte. Posso assicurare che la sua preoccupazione principale era la divulgazione del messaggio di Nostra Signora a tutte le persone del mondo in modo da esaudire la richiesta fatta di Nostra Signora di Fatima nelle sue apparizioni. Il doppio DVD, che finora è disponibile in italiano, è stato realizzato esclusivamente in base agli scritti di Sorrucia. Il nostro canale è www.thecalltofatima.com Il nostro canale è www.thecalltofatima.com